Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In A1 a causa di un incidente si registrano 6 km di coda tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. In Fipili invece a causa di lavori rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in entrambe le direzioni, tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno e sempre in direzione mare tra Ponte dell'Ovest Ponsacco e la dinamazione Pisa-Livorno. Passiamo al raccordo Siena-Firenze dove si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata tra Imprunete e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola senso unico alternato è il restringimento di carreggiata per lavori al km 89-970 in località Anchetta nel comune di Fiesole. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!